e ciao a tutti i mici acquariofili vi do il benvenuto in questo nuovo video di Filos Aquarium come sempre vi chiedo come state spero bene spero che i vostri pesci stiano in piena forma quest'oggi come già accennato sia su instagram che qua su youtube andrò a dedicare una premiere ai vostri disegni disegni che mi sono piaciuti veramente tanto ho deciso che a differenza della premiere dedicata ai vostri acquari visto che non c'è tanto da spiegare sono dei disegni e non commenterò non dirò niente ve li lascerò con una meravigliosa musica e sta a voi decidere quello che vi piace di più a eccezione di questo qua all'inizio che voglio dirvi che mi è stato detto dall'autore che è un ritratto di Yogan per chi non lo sapesse Yogan è la mia carpa che purtroppo è morta quest'anno una carpa Yamabuki Yogan meravigliosa disegno che mi piace veramente tanto Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.